Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6, questa sera in primo piano c'è l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 della TUA, l'azienda del trasporto unico abruzzese, numeri positivi, quelli illustrati questa mattina dal presidente della regione Luciano D'Alfonso e dal presidente di TUA, Luciano D'Amico. Presidente D'Amico, oggi è una giornata importante per l'approvazione dell'esercizio di TUA, quali sono le novità, i numeri cosa dicono? I numeri dicono che la fase di risanamento è ampiamente conclusa e che possiamo permetterci un grande rilancio, un programma di grande rilancio. Oggi lo illustreremo all'azionista e alla stampa con l'auspicio che possa essere approvato e che possa consentire a TUA di essere davvero un fattore di propulsione dello sviluppo della regione. Sono anche però dei problemi che ovviamente voi state affrontando? Sicuramente i problemi sono tanti, l'azienda è estremamente complessa, è un'azienda che eroga l'80% del TPL regionale e che ha 1.600 dipendenti. Tuttavia, nonostante questi problemi, credo che ormai ci si possa permettere davvero la possibilità di pensare ad un progetto di grande sviluppo. Questa mattina c'è anche la protesta dei lavoratori dell'UGL e oggi c'è una giornata di sciopero proprio proclamata dall'UGL. Sì, l'UGL rappresenta circa il 3% del personale, non ha firmato il contratto di secondo livello. Io credo che sia un gesto di grave irresponsabilità non aver firmato il contratto e continuare a protestare su questioni che ormai sono ampiamente risolte. Il nostro obiettivo è risanare e sviluppare la società, non curare interessi particolaristici. Presidente, fra le problematiche da affrontare c'è anche quella dell'ordine pubblico sui pullman, sugli autobus. L'ultima aggressione è avvenuta poche ore fa sull'autobus Pescara Giulianova. Cosa può fare tua, cosa si potrebbe fare per far lavorare maggiore sicurezza ai dipendenti? Stiamo immaginando di far scortare i nostri pullman da personale di sicurezza e un atteggiamento intollerabile quello che è stato tenuto nei confronti del nostro autista a cui va non solo la nostra stima, la nostra grande stima ma tutta la nostra solidarietà e in particolare l'impegno a che non si ripetano più questi episodi. Grazie mille. The Laurentiis e dell'ingegnere Velina Davoglio, il direttore generale, e Giuseppe Alfonso Cassino. Restiamo in tema, si tiene davanti la sede dell'ex GTM a Pescara dei lavoratori dei trasporti dell'UGL che hanno proclamato per oggi una giornata di sciopero. Nel giorno della presentazione del bilancio d'esercizio di Tua, l'UGL Sciopera oggi in Abruzzo per quanto riguarda proprio il settore dei trasporti c'è questo presidio qui dinanzi la sede della Tua, il perché di questa protesta e di questo sciopero? Intanto lo sciopero era stato organizzato prima di sapere che oggi ci sarebbe stata la presentazione del bilancio Tua, quindi era già programmato, il presidio è importante perché una volta per tutte l'unica sigla sindacale che non ha firmato il contratto di Tua è l'UGL che è coerente con le ragioni per cui non le ha firmate. Quali sono queste ragioni vogliamo ricordarlo? Sì, assolutamente, innanzitutto i tanti privilegi che non sono stati abbattuti a discapito di una sicuramente programmata e subero del personale, ci sono anche dei privilegi che sono stati dati a vantaggio di dirigenti, a svantaggio invece di quelli che sono i veri operatori di Tua e cioè gli autisti che portano il pullman. Abbiamo anche denunciato che ci sono dei problemi sulle macchine, sia sui pezzi di ricambio che sulla sicurezza. In realtà un altro punto in cui l'UGL tiene a sottolineare è che i nuovi assunti verranno trattati in maniera diversa e sicuramente in maniera veramente io la vorrei definire ignobile. E ora la cronaca si è aperta questa mattina davanti al giudice Franco Tetto il processo con rito immediato che vede imputato per omicidio colposo, plurimo, aggravato. L'inglese di 36 anni Stephen Collins che a dicembre dello scorso anno ubriaco e a bordo della sua auto travolse e uccise sulla SS16 due pescatori terramani, Graziano Battistelli di Tortoreto e Marco Iampieri di Alba Adriadica. Nel corso dell'udienza in cui si sono costituiti parte civile, i familiari delle vittime e nel corso della quale il giudice ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dell'uomo ed anche la richiesta di revoca dei domiciliari, Collins ha rilasciato delle brevi dichiarazioni spontanee. Mi dispiace per l'incidente e per la morte di due pescatori ha detto, assistito dall'interprete per poi aggiungere sono innocente al 100%, non ricordo niente di quanto accaduto. Ancora la cronaca, un agricoltore di 78 anni è deceduto nella tarda mattinata di oggi a causa di un probabile malore mentre stava lavorando in un terreno in Contrada Santa Vittoria di Penne in provincia di Pescara a dare l'allarme è stato il figlio che ha allertato i soccorsi ma quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale compagnia per l'anziano non c'era purtroppo più nulla da fare sul corpo dell'uomo, nessun segno di violenza fra le cause del decesso, probabilmente il caldo. E andiamo avanti e ci spostiamo a L'Aquila, Polizia Stradale, un centro operativo all'avanguardia inaugurato oggi, è nato per raggiungere una maggiore efficienza e un maggiore coordinamento, nasce dall'unificazione dei due centri operativi autostradale e compartimentale. Un nuovo centro operativo della Polizia Stradale che nasce dall'unificazione di due sale operative, il centro operativo autostradale ed il centro operativo compartimentale. L'unificazione è finalizzata sia ad una maggiore razionalizzazione delle risorse sia ad una migliore efficienza nel coordinamento degli interventi nell'ambito della viabilità ordinare ed autostradale. Questa mattina allo svincolo autostradale dell'Aquila Ovest l'inaugurazione. La nuova sala operativa da cui verranno gestite le pattuglie della Polizia Stradale operanti nelle autostrade 24 e 25, nonché quelle operanti nelle principali arterie stradali della provincia dell'Aquila, avrà anche un'importante funzione di coordinamento di tutte le pattuglie e delle specialità in ambito regionale. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, l'autostrada è l'unica virtuosa. Un centro operativo che mette insieme il COA, il centro operativo autostradale e il COC, centro operativo dei compartimenti. L'obiettivo è fornire maggiore efficienza, fare sinergie tra le pattuglie dentro l'autostrada e quelle che operano sul territorio non autostradale, dare maggior garanzia agli operatori perché sanno che c'è una rete che li può sopportare, ma dare maggior sicurezza al cittadino proprio perché questa dava la possibilità di avere una tempestiva, là dove fosse necessario, un tempestivo intervento delle pattuglie. Le autostrade sono l'unico territorio virtuoso. In autostrada la riduzione dei incidenti è in linea con l'Europa, meno 50%. Purtroppo invece complessivamente assistiamo a un incremento di morti, questo ci preoccupa, ecco perché bisogna aumentare non tanto la repressione, ma l'educazione e la formazione partendo dalle scuole. Noi facciamo tanto, il progetto Icaro e altri progetti col mondo della scuola, credo che solo la consapevolezza che conviene rispettare le regole può aiutarci a ridurre questo numero e a portarci a quell'obiettivo che l'Europa ci dà di meno 2000 morti entro il 2020. Per il questore Alfonso Terribile si tratta di un ulteriore presidio per la sicurezza stradale. Un nuovo presidio è sull'onda della innovazione, della riorganizzazione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha voluto. Il centro operativo della Polizia stradale di L'Aquila avrà un importante compito, quindi quello di coordinare l'attività di tutte le pattuglie della Polizia stradale, voi sapete che è la specialità più bella della Polizia di Stato, in tutta la regione d'Abruzzo. Quindi questo porterà sicuramente una maggiore efficienza del personale che opererà i controlli su strada, su tutte le strade autostradali e statali della regione. Cala il progetto Sombrina Mare, il progetto petrolifero che tanto ha fatto discutere negli ultimi anni, con una mobilitazione di cittadini e attivisti senza precedenti. Il 12 luglio iniziano infatti le operazioni di chiusura del pozzo esplorativo a largo della costa abruzzese. Dal 12 luglio al 12 agosto 2016 la società Rockhopper Italia S.p.a. eseguirà le operazioni di chiusura mineraria del pozzo denominato Ombrina Mare 2 Dir, si legge nella relativa ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona, contenente tutte le prescrizioni per le unità navali in transito. E ora andiamo avanti, cambiamo pagina perché è stata presentata questa mattina a Roseto degli Abruzzi la nuova giunta comunale targata Sabatino di Girolamo, il sindaco neoeletto a metà giugno. Quasi tre settimane per ufficializzare la propria giunta. Sabatino di Girolamo, sindaco di Roseto, ha avuto come primo banco di prova quello di gestire il delicato rapporto di apparentamento avvenuto con la lista Amoroseto guidata da Giulio Cesare Sottanelli che proprio ieri, scoperto di non aver ottenuto nessuna poltrona, a mezzo comunicato stampa ha espresso tutto il proprio dissenso e l'avvio di un divorzio con il PD targato Roseto che ha beneficiato, sottolinea, di ben 4.450 voti dell'ex avversario. Questo divorzio dispiace molto al sindaco di Roseto eletto recentemente perché il sindaco di Roseto voleva avviare un percorso di unità e un percorso di riappacificazione di tutte le anime del centro-sinistra rosetano. E' chiaro che questo obiettivo non poteva avvenire a discapito della stabilità di governo cioè sconquassando il gruppo consigliare del Partito Democratico cui io ho il dovere, che io ho il dovere di mantenere unito. E' stato detto assenza totale di D'Alfonso a Roseto non solo durante la campagna elettorale ma anche dopo la nomina lei ha mandato anche un messaggio al governatore D'Alfonso. Conto però che in futuro il nostro governatore voglia rispettare la volontà dei rosetani e quindi collaborare con il sindaco che i rosetani hanno con chiarezza scelto. Il primo lavoro del nuovo sindaco sarà quello del bilancio, la situazione come si preannuncia. Non ho avuto tempo ancora di rendermi conto dello stato del bilancio comunale. Questa è la prima cosa a cui metterò mano con l'aiuto del neoassessore Frattari che è estremamente esperto in materia per capire come sta il nostro bilancio. E' la condizio sine qua non per avviare quest'opera di conoscenza, per avviare un lavoro serio dedicato soprattutto alla manutenzione del territorio. Con quale criterio ha scelto i suoi assessori? Il criterio è stato quello di mischiare esperienza e gioventù innanzitutto e credo di esserci riuscito. L'entusiasmo dei novizi con quello di maggiore esperienza. Simone Tacchetti sarà vice sindaco con delega ai lavori pubblici, al lavoro e ai servizi cimiteriali. Poi Antonio Frattari delega al bilancio finanze e programmazione economica, commercio, patrimonio e polizia municipale. Nicola Petrini assessore a manutenzione del territorio, ambiente, parco mezzi, anagrafe, servizi demografici e agricoltura. Luciana Di Bartolomeo assessore ai servizi sociali, alla pubblica istruzione. E infine Carmela Bruscia, delegata a cultura e turismo. Restano nelle mani del sindaco di Girolamo le deleghe allo sport e all'urbanistica. Crollo delle presenze fino ad oltre il 40%, crollo delle presenze dei turisti a Pescara. Pesano le problematiche sullo stato di salute delle acque del mare. La Sibconfcommercio corre a ripari con una serie di iniziative. Padovano, un crollo del 40% almeno delle presenze turistiche a Pescara, situazione drammatica per i balneatori ma per tutto il movimento turistico della città di Pescara. Purtroppo questo era da aspettarselo che ci fosse stato un calo così forte. C'è stata troppa superficialità nello scorso anno quando riguarda la questione ambientale. ci siamo riempiti la bocca dicendo che il nostro mare non era pulito. Noi abbiamo su 22 km di costi, io dico 22 km perché il dramma è su Montesilvano, Francavilla e Pescara, 22 km, abbiamo soltanto 300 metri lineari di mare non balneabile. Quindi tutto il resto è mare balneabile. Purtroppo non c'è stata nessuna iniziativa né della regione né dei comuni per mettere in moto una macchina che promuovesse il nostro mare e promuovesse anche le nostre infrastrutture. Questa crisi non riguarderà soltanto i balneari, ma a ottobre ci saranno anche altre ripercussioni su tutto l'indotto che sta dietro ai balneari. Noi adesso abbiamo messo in piedi un'altra iniziativa, stiamo portando avanti come Sibconfcommercio con Trenitalia, se due persone prendono il biglietto ne salgono tre, quindi c'è uno scondo del 50% e a ridosso di questo chi viene al mare col biglietto del treno presso i lidi della Confcommercio usufruirà di uno scondo del 50%. Domani mattina esigleremo l'accordo anche con TUA, con il trasporto urbano abruzzese, per fare in modo che a Pescara, che a Francavilla ma anche altrove, si possa venire al mare col mezzo pubblico. Restiamo a Pescara, la lista Teodoro denuncia l'esclusione dalla rotazione dei turni di alcuni lavoratori di Pescara Parcheggi. Teodoro, voi denunciate una mancata rotazione di alcuni lavoratori di Pescara Parcheggi che sarebbero in pratica senza lavoro da diversi mesi. Il perché di questa situazione come si può spiegare? Non sappiamo le ragioni, abbiamo ascoltato le ragioni dei dipendenti, speriamo mercoledì di poter ascoltare le ragioni dell'azienda. L'unica cosa che ci suona un po' strano è, come i dipendenti ci hanno raccontato, loro sono fermi da dieci mesi, a differenza di altri che hanno avuto una rotazione del lavoro e in più ci sarebbero anche nuove assunzioni, per cui vorremmo chiedere ai vertici della società se tutto questo risponde al vero e capire le ragioni del perché questi due dipendenti che lavorano e hanno lavorato per circa 7-8 anni senza avere mai lettere di richiamo, senza avere nessun sollecito da parte dell'azienda, ma con grande professionalità, oggi sono stati messi da dieci mesi fuori dal regime lavorativo. Si potrebbe creare un contenzioso giudiziario simile a quello che da alcuni mesi stanno portando avanti gli ex interinali di Attiva? Questo non so rispondere perché non conosco giuridicamente i contratti, non conosco tecnicamente la procedura per cui non saprei rispondere. Ho visto che c'era un legale qui portato dai dipendenti, sarà il legale che deciderà cosa fare nel futuro. Ed ora a Giulianova dove il primo cittadino Francesco Mastromauro ha lanciato un grido d'allarme sul fronte della sanità. Vediamo. Il mio è un grido d'allarme, un vero e proprio grido d'allarme. Il problema serio, indifferibile da trattare con estrema urgenza è la carenza di personale nella ASL di Teramo e nei suoi quattro presidi ospedalieri. Purtroppo il problema viene sottovalutato e non è più possibile ritardarne l'approccio. Per questo chiedo che vi sia da subito una riunione urgente del Comitato Ristretto dei Sindaci nel quale porre come ordine del giorno quello della carenza del personale, ma soprattutto l'impegno precettistico da parte dei consiglieri regionali eletti nella provincia di Teramo e quelli di maggioranza in particolare affinché si affronti il problema. Quindi io come sindaco, sede di un ospedale, non sto a sottolineare il problema dell'ospedale di Giulianova, ma il problema di tutti gli ospedali della provincia di Teramo e quindi della erogazione dei livelli sanitari alla utenza. Ma il problema più grande si determinerà proprio da settembre in avanti, quando c'è il rischio di paralisi della sanità in provincia di Teramo. Affrontiamo subito questo problema prima che sia troppo tardi. Torna a Pescara un evento clou della stagione estiva, il 15 e 16 luglio. Infatti la zona della Riviera ospiterà intanto il Cost Day, il 15 luglio. Ma soprattutto il 16 ci sarà la notte bianca dell'Adriatico, iniziative volute fortemente dall'amministrazione comunale. Torna questo appuntamento importantissimo. Noi l'abbiamo definito il capodanno d'estate dell'Adriatico. Un grande appuntamento che riguarderà i 10 chilometri di Riviera che per l'occasione diventeranno una grande piazza lineare e pedonale dove accadranno tante cose. Rispetto allo scorso anno ci sono grandissimi nomi. Fiorella Mannoia, Paola Turci, Tonino Carotone, Alex Neri, Michele Placido. Tanta musica, tanto intrattenimento, ma soprattutto anche nuove location che determineranno una giornata di festa importante, non solo dal punto di vista del divertimento e dell'importanza dell'appuntamento, ma anche perché questa notte ha dimostrato lo scorso anno con oltre 200.000 presenze di riuscire a riattivare l'economia del turismo e soprattutto l'aumento del consumo registrato del 150%. Un'estate di grandi appuntamenti a Pescara, tra questi Assessore Santa Venere il 16 luglio, cioè il Cost Day. Sì, il 16 luglio presenteremo il Cost Day all'interno del progetto Adriatic Plus di cui il Comune di Pescara è capofila, un progetto europeo sulla tutela e la biodiversità marina. Per noi è molto importante presentare ovviamente oggi alla città questo grande evento. Fiorella Mannoia sarà testimonia del Cost Day perché è artista sempre impegnata sull'ambiente, un artista che ha sempre avuto attenzione su tematiche ambientali e soprattutto perché quest'anno dedicherà il suo tour a te, quindi a Lucio Dalla, che è stato colui che ha amato il mare e ce l'ha fatto mare. Quindi per noi è un grande orgoglio riuscire ad essere tutti insieme e vorrei quindi lanciare anche questo invito ad unirci a mezzogiorno del 16 lungo la costa con lo sguardo rivolto in mare, verso il mare, mano nella mano e lanciare davvero un hashtag, uniti verso il mare. E ora ci occupiamo della Coppa Interamnia-Teramo. È partita la 44esima edizione, riviviamo le emozioni della consueta parata che si è tenuta ieri sera, anche se con qualche diversivo, soprattutto rispetto al tracciato della sfilata. Ha aperto i battenti con la consueta parata inaugurale la 44esima edizione della Coppa Interamnia-Teramo. I colori, l'allegria e l'entusiasmo di tutte le delegazioni hanno acceso il centro storico della città dando il là alla settimana di uno dei più importanti e longevi tornei giovanili di pallamano. Questa volta però con una variazione obbligatoria, il percorso della sfilata, modificato, gioco forza a causa dei lavori a Corso San Giorgio. Così le squadre sono partite da Largo Madonna delle Grazie per poi dirigersi verso il centro attraverso Corso dei Michetti, Corso Cerulli e Piazza Orsini per arrivare infine a Piazza Martiri della Libertà attraverso Via della Verdura. Poco prima della sfilata a intrattenere il pubblico sono stati gli sbaglieratori della giostra cavaleresca di Sulmona e gli attori della Compagnia dei Folli che hanno rappresentato il loro ultimo spettacolo, l'incanto. Alla 44esima Coppa Interamnia non ha preso parte l'Unite World Team, squadra composta da studenti provenienti da tutto il mondo. Alcune lungaggini burocratiche infatti hanno creato problemi nel rilascio dei visti. Presenti i soli ragazzi lituani ma in numero non sufficiente a prendere parte alla manifestazione, negati i visti anche per la squadra iraniana dell'Isfahan University e la algerina Ruto University. Già da oggi si svilupperà il calendario delle partite sul campo allestito sempre a Piazza Martiri dove gli incontri si disputeranno fino alle ore 23. La manifestazione sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali tra i quali l'elezione di Miss e Mister Coppa Interamnia sabato sera organizzata dal consigliere comunale Guido Campana. E ha riscosso invece grande successo di partecipanti l'edizione 2016 del trofeo di nuoto città di Pineto. Grande successo per il nono trofeo di nuoto città di Pineto organizzato dal gruppo Spatangus in collaborazione con l'area marina protetta del Cerrano, la Wisp di Teramo ed il patrocinio del Comune di Pineto, un'edizione inedita e speciale quella del 2016 poiché oltre alla nuotata classica in cui gli atleti sono stati impegnati in una traversata in acque libere per oltre 3 miglia nautiche, per la prima volta si è gareggiato per la doppia percorrenza ovvero per le 6 miglia e 85. Un evento, il trofeo di nuoto, che rappresenta una vera e propria gara di solidarietà poiché i proventi sono devoluti a diverse associazioni del territorio e in principal modo a dimensione volontario ma anche al canile di Pineto e dalla Caritas attraverso il supporto dell'Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani contestualmente alla competizione in spiagge ed in Pineta si sono svolte attività sportive e ricreative dal battesimo subacqueo al laboratorio ambientale passando dal tiro con l'arco in spiagge ed in Pineta è stato inoltre possibile acquistare il Crucilibro una raccolta di 100 cruciverba ideati da Francesco Airoldi e da un gruppo di volontari che si sono occupati della definizione e controllo degli schemi il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza Special guest di questa edizione il nuotatore abruzzese Simone Norsha, classe 96 appena rientrato dal prestigioso trofeo internazionale Sette Colli disputato al Foro Italico di Roma infine a concludere una giornata ricca di emozioni e suggestioni la costituzione di un gemellaggio siglato a Torre del Cerrano tra il trofeo di nuoto città di Pineto e le nuotate di Ortona e Vasto tre splendide manifestazioni in acquilibere nel mare della nostra regione e ora apriamo la pagina dello sport lo facciamo con il calciomercato e con il Pescara è arrivato a Pescara, è arrivato in città e quest'oggi ha sostenuto le visite mediche il neoportiere Biancazzurro, l'argentino Albano Bizzarri ma nelle ultime ore si infiamma il mercato degli attaccanti praticamente fatta per Reimanai dall'Inter il sogno resta a Pablo Daniel Osvaldo al momento svincolato grandi manovre per l'attacco del Pescara benché nelle ultime ore si è sfumato un obiettivo come Matias Suarez l'attaccante argentino ha deciso di tornare in patria ed ha firmato un contratto triennale con il Belgrano lasciando così l'Anderlecht ma l'entourage del Delfino non è stato a guardare e sta stringendo per l'attaccante albanese Reimanai il giocatore rientra nell'operazione con l'Inter che ha portato Caprari in nerazzurro dal prossimo anno e Biraghi in rival adriatico il Pescara si è trovato a scegliere per l'attaccante in prestito dall'Inter tra Puskas e Manai ed ora la bilancia pende su quest'ultimo lo scorso anno Manai ha giocato quattro gare in A con l'Inter ma soprattutto è stato punto di forza della primavera di Vecchi con cui ha vinto la Coppa Italia attaccante classe 97 di grande prospettiva e con una particolare tempra potrebbe ritrovarsi come capitano il suo connazionale Ledian Memushai che sarà funzionale al suo eventuale inserimento arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e controriscatto sempre sul fronte attacco il nome nuovo per il Pescara è particolarmente suggestivo ed è quello di Giovanni Simeone figlio del Ciolo Diego classe 95 di proprietà del River Plate ha giocato una buona stagione in prestito al Banfield e potrebbe approdare nel vecchio continente proprio indossando il biancazzurro il presidente Sebastiani però è al lavoro anche per un grande nome torna di prepotenza l'ipotesi dell'Italo Argentino ed ex nazionale azzurro Pablo Daniel Osvaldo svincolato da maggio dopo l'ultima esperienza con il Boca Junior al centro avanti è stata fatta una proposta annuale da 750 mila euro Osvaldo chiede più di un milione si tratta altri nomi di rilievo su cui lavorare sono il cileno Maurizio Piniglia che potrebbe lasciare l'Atalanta visti i rapporti non idiliaci col neotecnico Gasperini e Alessandro Matri di proprietà del Milan se non dovesse rientrare nei piani di Montella il Delfino potrebbe fare più di un pensierino lavorando ad una formula che vada a mitigare l'alto ingaggio del giocatore domani intanto il gioiellino Alessio Di Massimo firmerà il contratto e sarà valutato dal tecnico Massimo Odo in ritiro per capire se tenerlo o girarlo in prestito sul fronte difesa restano caldi i nomi di Guglielmo Stendardo dell'Atalanta e Norbert Ghiomber della Roma a questi nomi si aggiungono altre ipotesi come Rodrigo Eli del Milan e l'ex mobido di Achite ora svincolato infine oggi prima giornata a Pescara per il neoportiere Albano Bizzarri che nella mattinata ha sostenuto le visite mediche al centro universitario di medicina dello sport e andiamo sul sito tutto mercato web per l'intervista rilasciata dal presidente Sebastieri che fa il punto anche in riferimento ad alcune delle trattative di cui abbiamo parlato nel servizio in particolare c'è una smentita secca per quanto riguarda Pablo Daniel Osvaldo dice il presidente Sebastiani non abbiamo presentato alcuna offerta per Osvaldo né il giocatore ha avanzato una proposta devo quindi smentire non c'è alcuna trattativa in corso poi conferma di aver preso oltre che Biraghi anche l'attaccante Ray Manai dall'Inter Puskas non era un obiettivo le trattative con l'Inter si sono interrotte ai due nomi sopracitati ovvero quelli di Manai e Biraghi e poi alla domanda su Alessandro Matri dice Sebastiani vedremo più avanti adesso è prematuro fare nomi scendiamo in Lega Pro intanto parlando di Virtus Lanciano sono ore particolarmente decisive queste per il futuro del club rosso-nero la società entro domani dovrà infatti provvedere al completamento dell'iscrizione al campionato di Lega Pro appena l'abbandono del calcio professionistico la proprietà rappresentata dalla famiglia Maio dopo aver pagato stipendi e contributi ha deciso di non ricapitalizzare per il milione e mezzo di euro necessario per ripienare il bilancio la salvezza del calcio Frentano è ora nelle mani di alcuni imprenditori in particolare c'è il nome forte quello di Gilberto Candeloro che potrebbe subentrare all'attuale proprietà e che nelle ultime ore si incontrerà con il sindaco di Lanciano Mario Pupillo se non dovesse esserci la fumata bianca probabilmente sarebbe la fine per i colori rossoneri dopo gli otto anni della gestione Maio che hanno toccato appunto fino anche la serie B e ora facciamo il punto sul mercato in casa Teramo Sansovini sì Sansovini no nell'attesa che l'attesa finisca il centroavanti romano dia una risposta al Pescara prima che al Teramo i biancorossi lavorano per le conferme di alcuni della vecchia guardia se ne saprà di più nella giornata di domani per la punta intanto alle 13 vertice di mercato in via Oberdan tra il direttore sportivo Fabio Lupo il direttore generale Gianluca Scacchioli e il presidente Luciano Campitelli domani Scipioni invece dirà di nuovo sì al diavolo prolungando un matrimonio che quest'anno pareva potesse concludersi dopo un'annata con più ombre che luci il progetto del Teramo e la mancanza di offerte che potessero farlo vacillare come quelle arrivate lo scorso anno di questi tempi suggeriranno all'esterno di rimettersi in gioco nella piazza che è di fatto casa sua situazione diversa per Alessandro Tonti ogni giorno che passa l'estremo difensore si allontana dai colori biancorossi per rimanere dovrà accettare di spalmare l'ingaggio su più anni e non avendo la certezza di essere il titolare in pole position per sostituirlo c'è Riccardo Melgrati giovane estremo difensore di 22 anni ultima stagione la Provercelli ma di proprietà del Cesena e lui l'indiziato principale a difendere l'anno prossimo la porta del diavolo anche se la pista non è affatto semplice ma il vero colpo di scena è proprio nell'asse col Pescara da cui arriveranno presto Carcalis e Orlando perché mentre per Palestini non ci saranno problemi la mega operazione non prevederà Alessandro Di Polo Antonio che sembra destinato a rimanere a Teramo uno scenario che si è aperto nelle ultime ore ma che comunque dovrebbe tenere in piedi tutto il resto senza far crollare quanto già costruito dunque Carcalis e Orlando a Teramo Palestini e solo lui a Pescara con i due difensori scuola biancazzurra che entro questa settimana o al massimo all'inizio della prossima saranno ufficializzati dal sodalizio di via Oberdan e ora parliamo della dodicesima edizione del premio Marciano a Ripa Teatina tutto pronto tra i premiati in questa edizione Gianni Rivera Massimo Oddo e il pugile Leonardo Bundu Sindaco Rucci tutto pronto per la dodicesima edizione del premio Rocchi Marciano ancora un'edizione da record con grandi nomi Gianni Rivera Massimo Oddo e non solo Sì sicuramente questa dodicesima edizione è stata organizzata dall'amministrazione comunale in modo particolare seguita dall'assessore Palladinetti e abbiamo rafforzato quello che è il premio Rocchi Marciano anche con un discorso culturale e sportivo perché al di là del giorno 16 che faremo la premiazione a questi grandi campioni che comunque si sono distinti queste quattro giornate dedicate al premio Rocchi Marciano sicuramente porterà a Ripa Teatina tantissima gente e quindi Ripa sarà la vetrina diciamo dell'Abruzzo in quei quattro giorni Il primo appuntamento è il 9 cominceremo con una mostra tra arte e box e la quarta edizione arriveranno opere importanti dell'arte moderna il giorno 13 avremo gli incontri di Pugilato con la Diodato e un interregionale Abruzzo contro Lombardia il 14 di luglio si parlerà di sport e diritti umani con Riccardo Nuri il presidente di Amnesty International poi avremo la presentazione del libro di Dario Ricci ragazzi di Brema e poi il giorno 15 avremo una bellissima giornata che si parlerà di sport e disabilità c'è un premio importante al giovane Giulio Ciccone con la sua bellissima vittoria al Giro d'Italia Diletta Cipollone la campionessa italiana di Pugilato avremo le squadre che quest'anno è stato un anno di Serie A il Chieti calcio femminile che è in Serie A poi avremo con lo scudetto del Montesilvano calcio a 5 sempre femminile avremo la GM Orini del presidente Marchesani con le sue bellissime vittorie internazionali e poi il pesca da calcio per il ritorno in Serie A finisce qui la terza edizione del TG6 domani l'appuntamento con la prima alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte e buonanotte e buonanotte Grazie a tutti.